Allora, diciamo che l'esperimento non ha potuto altro che confermare quelle che sono già le indicazioni scientifiche, ovvero che la lettura incrementa e stimola quelle che sono le abilità cognitive di base. Infatti abbiamo riscontrato che i bambini sono più concentrati durante le lezioni, riescono a riflettere criticamente sulle informazioni delle materie di studio, come in questo caso per esempio la storia, le scienze, la geografia e quindi riteniamo che il progetto abbia dato un valido contributo alla crescita evolutiva dei bambini. Grazie.